Cari amici, buona festa della manifestazione del Signore. Epifania vuol dire proprio manifestazione. Il Vangelo di Matteo, che è il Vangelo di cui abbiamo informazione di questo evento della manifestazione del Signore, ci fa entrare, ci rende partecipi di una vicenda che è appassionante, che è drammatica e che è provocante. E' appassionante la vicenda che ci viene raccontata. Perché? Perché i magi ci suscitano una naturale simpatia attrattiva. Tutti noi vorremmo essere come loro, in cammino verso Betlemme, vorremmo essere alla ricerca del Signore, vorremmo davvero scoprire la sua grandezza. I magi sono coloro che, abitati anche da una certa ingenuità, scatenano intorno a loro, intorno alla loro ricerca, intorno al loro desiderio di Dio, un gran putiferio. Ecco, forse il nostro essere cristiani oggi deve proprio misurarsi con questa loro ingenuità. Una grande fermezza d'animo nella ricerca, una grande capacità di dire semplicemente chi è il Signore, un desiderio profondo che li tiene in cammino, la gioia della stella che li conduce al luogo dove Gesù è nato. Abbiamo detto vicenda anche drammatica. Perché? Perché l'ingenuità dei magi scatena l'attenzione del potente di quel tempo. Erode non ha bisogno di cercare, perché Erode, nella sua presunzione, suppone già di possedere tutto. E c'è quel bellissimo inno della liturgia che lo mette un po' con le spalle al muro. Perché temi Erode, il Dio che viene? Non toglie i regni umani chi dà il regno dei cieli. Ma Erode vede necessariamente come nemico anche il regno dei cieli e questa è una realtà presente anche nella storia di oggi. Molti potenti vedono come antagonista da eliminare il regno dei cieli, il regno di Gesù, la sua presenza salvifica. Ma questo non toglie ai magi di continuare ad essere in ricerca. Abbiamo detto che la vicenda dei magi è anche provocante. Provocante perché ci mette dinanzi al mistero dell'incredulità. Sacerdoti, scribi, cioè i grandi conoscitori, i grandi preparati, potremmo dire i professori universitari del tempo, che hanno tutte le informazioni su Gesù, ma non fanno un passo verso di lui. Danno addirittura l'informazione giusta ai magi. Li dirigono a Betlemme, li mandano a Betlemme. Anche se poi i magi saranno guidati dalla stella, che essi accolgono con gioia. Ecco, forse a volte la Chiesa del nostro tempo è un po' appesantita. È capace di darci l'indicazione giusta. Però rimane lì, un po' stantia, un po' bloccata, un po' irrigidita. Nonostante tutto quello che si cerchi di nominare come positivo e come significativo per la vita della Chiesa. Ecco allora, recuperiamo l'ingenuità dei magi. Non temiamo la gloria dei potenti, che sarà spazzata via come pula che il vento disperde. La storia ce l'ha testimoniato tante volte. Lasciamoci provocare da questa vicenda. Non rimaniamo fermi. Semplicemente come coloro che sanno, sanno di Dio, ma non mettono il loro cuore in cammino verso Dio. Buona Epifania a tutti voi. Buona Epifania a tutti. Buona Epifania a tutti. Buona Epifania a tutti.